Pericle, un titano della democrazia. Pericle, nato ad Atene intorno al 495 anno corrente e morto nel 429 anno corrente, è stato uno dei più influenti statisti e oratori della storia antica. La sua leadership durante l'età dell'oro di Atene ha lasciato un'eredità indelebile nella cultura e nella politica occidentale, primi anni e formazione. Pericle proveniva da una famiglia aristocratica e ricevette un'educazione eccellente, studiando filosofia, musica e retorica da alcuni dei più grandi pensatori del suo tempo. Le sue abilità oratorie e il suo carisma lo resero presto una figura di spicco nella politica ateniese. Ascesa al potere. Pericle si alleò con Effialte, un leader democratico, e insieme portarono avanti una serie di riforme che ampliarono la partecipazione democratica e rafforzarono il potere del popolo. Dopo lo stracismo di Effialte nel 461 anno corrente, Pericle divenne il leader indiscusso della democrazia ateniese. L'età dell'oro di Atene. Sotto la guida di Pericle, Atene conobbe un periodo di prosperità e splendore culturale. Pericle promosse la costruzione di grandi opere pubbliche, come il Partenone e l'Acropoli, che trasformarono Atene in un centro di bellezza e cultura. Inoltre, egli incoraggiò le arti e le lettere, favorendo lo sviluppo di una fiorente scena letteraria e artistica. Politica estera e la guerra del Peloponneso. Pericle guidò Atene durante la prima guerra del Peloponneso contro Sparta e i suoi alleati. La guerra durò 27 anni e fu un conflitto sanguinoso e distruttivo. Pericle adottò una strategia di guerra difensiva, concentrando la potenza navale di Atene per proteggere la città e il suo impero marittimo. Morte ed eredità. Pericle morì di peste nel 429 anno corrente, durante la guerra del Peloponneso. La sua morte fu un duro colpo per Atene e la sua leadership non fu mai completamente sostituita. L'eredità di Pericle è vasta e complessa. Egli è considerato uno dei più grandi statisti della storia, un campione della democrazia e un abile oratore. Il suo periodo di governo ad Atene è ricordato come un'epoca di grandezza e civiltà. Alcune considerazioni. Pericle non era un democratico puro. Pur essendo un forte sostenitore della democrazia, egli non credeva che tutti i cittadini fossero ugualmente capaci di governare. La politica estera di Pericle fu spesso aggressiva e imperialista. Atene, sotto la sua guida, si scontrò con Sparta e altre città stato greche, provocando un conflitto di lunga durata. Nonostante le sue criticità, Pericle rimane una figura di grande ammirazione e ispirazione. Il suo coraggio, la sua intelligenza e il suo segno per la democrazia lo rendono un esempio per le generazioni future. Pericle è stato un uomo di grande statura e il suo impatto sulla storia è innegabile. La sua leadership ha contribuito a trasformare Atene in una potenza marittima e in un centro culturale di primaria importanza. Il suo esempio continua ad ispirare i difensori della democrazia e della libertà in tutto il mondo.